Benvenuti, io sono il Cencio e questa è una nuova puntata di Metal Gear Solid. Nell'ultima puntata siamo finalmente riusciti a trasformare le schede nelle varie temperature di cui avevamo bisogno e adesso prima che si raffreddi, fatemi controllare che non si sia raffreddata, dobbiamo inserirla, ora o mai più. Codice di detonazione attivato. No, perché? Proverti, alloce. Io l'ho disattivato! Grazie, Snake. Ora il codice di detonazione è completo. Ora nessuno può più fermare il Metal Gear. Master, che cosa sta succedendo? Tu hai trovato la scheda e hai perfino attivato la testata per noi. Ti devo proprio ringraziare. Mi spiace di averti coinvolto in quella seccatura della Lega Memoria di Conformazione. Ma che cosa sta dicendo? Noi non siamo riusciti a scoprire il codice del direttore della DARPA. Neppure i poteri psichici di Mantis bastavano a leggergli il pensiero. Poi Ocelot l'ha ucciso per errore durante l'interrogatorio. In altri termini, non eravamo capaci di lanciare un attacco nucleare e stavamo tutti quanti preoccupandoci parecchio. Senza la minaccia dell'attacco nucleare nessuno avrebbe mai accolto le nostre richieste. Che significa? Essendo sprovvisti dei codici di detonazione, abbiamo dovuto trovare qualche altro sistema. E così ho deciso che... che potevi esserci utile, Snake. Vale a dire. Come prima cosa ho pensato che avremmo potuto ricavare qualche informazione da te. E così ho fatto travestire di Koi Octopus da direttore della DARPA. Purtroppo Octopus non è sopravvissuto all'incontro per colpa del Fox Dye. Significa che lei aveva pianificato tutto ciò fin dall'inizio? Solo per farmi inserire il codice di detonazione? Eh, non pensavi mica di riuscire a fare tutto quanto da solo, vero? Ma chi diavolo è lei? In ogni caso, i preparativi per il lancio sono ultimati. Non appena il mondo avrà un saggio della potenza di quest'arma, la Casa Bianca non avrà scelta e dovrà darmi il vaccino per il Fox Dye. Il loro asso nella manica ora non serve più a niente. Asso nella manica. Il piano del pentagono per sfruttarti ha già avuto successo. Nella stanza delle torture. Oh, Snake, sei proprio l'unico che non sa niente. Povero sciocco. Ma insomma, chi è lei? Ti dirò tutto ciò che avrai voglia di sapere. Se riuscirai a raggiungermi, cioè... E il posto sarebbe... Molto vicino. Nei, quello non è Master Miller. Troppo tardi, Cappell. Il corpo di Master Miller è stato appena scoperto a casa sua. È morto da almeno tre giorni. Io non lo sapevo perché il mio collegamento code con Master era saltato, ma Mei Ling diceva che il segnale di trasmissione veniva da dentro la base. Ma allora, lui chi è? Snake, tu hai parlato a... Me, caro fratello. Liquid. Tu sei servito al tuo scopo. Ora puoi morire! E qui è un casino. Maschera, 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 maschera. Ok. Ci serve... Una chaff, sicuro. Le telecamere stanno continuando a riprendermi. Così dovrebbe andare. No, eh. Otacon, aiuto. Snake, quello è vetro antiproiettile. Non puoi sfondarlo con un'arma ordinaria. Riesci ad aprire da lì la serratura di sicurezza. Ci provo. Cerca di reggere per un minuto. Bravo. Dai che ce la dovrei fare. Aprimi sta cazzo di porta. Mamma mia, ragazzi. Avete visto quanta roba? Ce l'ho fatta! Snake, sto apprendo la porta! Grande, Otacon. Se tu non ci fossi te. Perfetto. Oh, guarda lì chi c'è. La nostra vita è full. Andiamo se posso usare la razione. Non era full. Adesso lo è. Giubbotto antiproiettile. Famas. Perché sì. È andato di qua. Il nostro caro fratello gemello, eh. Snake. Ti piacciono i miei occhiali da sole? Formazione. Intendi puntare un'arma contro tuo fratello? Perché hai fatto finta di essere master? Per poterti manovrare con maggiore facilità. E ti sei comportato abbastanza bene, devo dire. Cioè. Anche i ragazzi al Pentagono probabilmente stanno pensando la stessa cosa. Di che diavolo stai parlando? Esegui ciecamente degli ordini senza fare domande. Hai perso il tuo orgoglio di guerriero. Sei diventato solo una marionetta, Snake. Cosa? Fermare il lancio nucleare. Salvare gli ostaggi. Era tutto un diversivo. Un diversivo? Il Pentagono aveva solo bisogno che tu entrassi in contatto con noi. È per questo che ha ucciso il presidente della Armstack e i Decoy Octopus. Vuoi dire che... Esatto. Sei stato mandato qui per ucciderci in modo che loro potessero recuperare il Metal Gear senza danni insieme ai corpi dei soldati genetici. Fin dall'inizio il Pentagono ti ha utilizzato semplicemente come portatore del virus Fox Die. Fox Die? Non può essere. Puoi farmi credere che Naomi lavorava per il Pentagono? Così almeno credevano loro. Ma sembra che la dottoressa Naomi Hunter non si lasciasse controllare così facilmente. Cosa? Abbiamo un nostro uomo infiltrato nel Pentagono. Ci ha riferito che la dottoressa Hunter ha modificato il programma Fox Die giusto prima dell'operazione. Ma nessuno sa come e perché. Mi chiedo... Forse l'hanno arrestata per scoprire la risposta a questa domanda. Non c'è dubbio. Ma io non so per quale motivo abbia architettato la sua mischina vendetta. Ancora adesso non sappiamo quali modifiche abbia portato al programma Fox Die. Oh, ma in fondo non importa. Ho già aggiunto il vaccino per il Fox Die nella lista delle mie richieste alla Casa Bianca. Esiste un vaccino? Deve esistere. Ma quella donna è l'unica che lo sa con sicurezza. Potrebbe risultare non necessario comunque. E perché? Tu sei riuscito a entrare in contatto con tutti noi, e quindi tutti siamo stati esposti all'azione del virus. È vero che il presidente della Armstack e di cui Octopus sono stati uccisi dal Fox Die. Ma Oselo, Dio stesso e tu, il portatore, sembriamo non risentirne di alcun effetto. Un errore nella programmazione del virus? Potrebbe essere. Ma se non uccide te, posso stare tranquillo. Dopotutto il nostro codice genetico è identico. Allora è vero. Tu e io siamo... Gemelli, esatto. Ma non gemelli normali, no. Noi siamo legati da dei geni maledetti. Le Zinfanterie. Tu stai bene. Tu hai avuto tutti i geni dominanti del vecchio. Io invece ho avuto quelli danneggiati, quelli recessivi. Tutto è stato programmato perché tu fossi il più perfetto dei suoi figli. La sola ragione della mia esistenza è stata di rendere possibile la tua. Ero il cocco di papà, eh? Proprio così. Io sono lo scarto di quello che hanno usato per crearti. Riesci a capire cosa significa sapere di essere spazzatura fino dal giorno della tua nascita. Ma io sono quello che il nostro padre ha scelto. Ecco perché sei così ossessionato da Big Boss. Una specie di amore deviato. Amore, odio vorrei dire. Mi ha sempre detto che ero inferiore. E ora avrò la mia vendetta. Tu dovresti capirmi, fratello. In fondo hai ucciso nostro padre con le tue stesse mani. Mi hai rubato la possibilità di vendicarmi. Ora io finirò il lavoro che nostro padre aveva iniziato. Sarò migliore di lui. Lo polperizzerò. Sei uguale a Naomi. Beh, di certo non sono come te. Al contrario di te. Io sono fiero del destino che hai contenuto nei miei geni. Aspetta. Snake. Il tuo sarà il primo sangue versato da questa nuova gloriosa arma. Consideralo un onore. Un regalo di tuo fratello. Ora te lo mostrerò. Guarda la potenza dell'arma che ci condurrà nel ventunesimo secolo. Si sta muovendo. Facciamelo fermo. Faccio. Faccio. Grazie a tutti E mo' e mo' e mo' son cavoli amari Perché adesso ce la dobbiamo vedere con il Metal Gear Quindi, Body Armor e Stinger alla mano Dai! Quello l'avevo preso Ora 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 Niente Penso che la Body Armor ci faccia ben poco Contro questo simile di... Contro questo tipo di proiettili Guardate che roba Non mi prende macro Penso che morirò Come ho fatto a missare quel colpo? Con un grosso guarda Forza! Forza! Questo li prendo Devo distruggere il radar Per forza Uh che liscio Questo se sto lontano Mi prendo Devo stare a una media distanza Vedete? Se sto più vicino Quelli non riescono a prendermi Già faccio Ho preso Tira i ministellini Eccoli Cazzo Si è girato Ok Non abbiamo vita ma Non ci credo Non ci credo ce l'ho fatta Non ci credo ce l'ho fatta Fugendo Grifox Un nome dal passato Eppure suona meglio Di gola profonda Allora eri tu Hai un aspetto Orribile Snake Non sei pecchiato bene Mi spedirò L'inferno Fox Perché? Che cosa vuoi da me? Io Sono prigioniero Della morte E solo tu Puoi liberarmi Fox Stan è fuori E cosa mi dici di Naomi? Si è dannata Cercando di vendicarti Naomi Tu sei l'unico Che è in grado Di fermarla No Non posso Perché? Perché io Ho ucciso I suoi genitori Allora Ero giovane E non sono riuscito A uccidere anche lei Mi sentivo così male Che decisi Di portarla con me Crescendola Come se fosse stata Mia sorella Per soffocare Il grido Della mia coscienza Ancora adesso Lei pensa a me Come un fratello Fox Agli altri Possiamo anche essere sembrati Un fratello E una sorella Felici Ma ogni volta Che la guardavo Vedevo gli occhi Dei suoi genitori Che mi fissavano Diglielo tu Per me Dille che sono stato io A farlo Eccomi qua Abbiamo quasi finito Il nostro tempo Ecco Un ultimo regalo Da parte di Cola profonda Lo fermerò Fox Nel Medio Oriente Non cacciamo le volpi Fox Cacciamo gli sciacalleri Invece dei bracchi Usiamo dei levrieri Irregali Fox Quanto è in grado Di resistere Il tuo esoscheletro E tu Snake Ha intenzione Di restare lì Seduto a guastarlo Morire Una volta in difficoltà E' più pericolosa Di uno sciacallo Ha distrutto il radon Impressionante Ti meriti davvero Il tuo nome in codice Fox Ma ora sei finito Spara lo stinger Fox Davvero vuoi sparare Così morirà anche lui Ora Di fronte a te Posso finalmente morire Dopo Zanzibar Ero fuori dalla battaglia Né completamente vivo Né completamente morto Un'ombra incapace di morire In un mondo di luci Ma presto Presto tutto finirà Finalmente Muori Muori Snake Noi non siamo strumenti Né del governo Né di nessun altro Combattere era l'unica cosa L'unica cosa di cui fossi veramente capace Ma almeno io ho sempre combattuto Per quello in cui credevo Snake Oddio Buoy Né del governo Dio Uh Oh Oh Burt好不好 ha pregato la morte e lei lo ha esodito e ora non c'è più nessuno a proteggerti nemmeno te stesso muori ok questa volta ce la faremo spostiamoci di qua cavolo per poco non ci pesta non l'ho preso ah ma troppo vicino beh dovremmo usarla subito no l'ho preso uguale no cazzo no l'ultimo 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 è morto lei ti farò mangiare la polve no 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 che che Grazie a tutti. Liquid, sei ancora vivo. Non morirò mai, fino a quando tu resterai vivo. Peccato, pare che la tua rivoluzione sia stata un fiasco. Il fatto che tu abbia distrutto il Metal Gear non significa che io abbia finito di combattere. Combattere? Ma che cosa vuoi veramente? Un mondo dove i guerrieri come noi siano onorati come una volta, proprio come dovremmo essere. Questa era una fantasticheria di Big Boss. Era il suo ultimo desiderio. Quando era giovane, durante la Guerra Fredda, il mondo aveva bisogno di gente come noi. Allora noi eravamo preziosi, eravamo desiderati. Ma ora le cose sono cambiate. Con tutti i bugiardi e gli ipocriti che guidano il mondo, la guerra non è più come una volta. Stiamo perdendo il nostro posto in un mondo che non ha più bisogno di noi. Un mondo che adesso disprezza la nostra stessa esistenza. Dovresti saperlo anche tu, come lo so io. Dopo che avrò lanciato quest'arma e ottenuto il nostro miliardo di dollari, potrò riportare il caos e l'onore in questo mondo ramollito. Il conflitto farà nascere altri conflitti. L'odio creerà odio nuovo. E quindi noi espanderemo sempre di più la nostra sfera di influenza. Ma fino a quando ci saranno persone a questo mondo, ci sarà sempre qualche guerra. Il problema è l'equilibrio. Nostro padre sapeva qual è il miglior tipo di equilibrio. E questa è l'unica ragione. E non è sufficiente per guerrieri come noi, dico. Non voglio un mondo simile. Ah, bugiardo! Allora che ci fai qui? Perché continui a seguire gli ordini quando i tuoi superiori ti tradiscono? Perché sei venuto qui? Silenzio. Te lo dirò io il perché. A te piace uccidere. Questo è quanto. Ma? Osi forse negarlo? Non hai già ucciso molti dei miei compagni. Ma l'ho fatto per... Io studiavo la tua espressione mentre li uccidevi. Eri pieno di eccitazione per la battaglia. Ti sbagli! C'è un assassino in te. Inutile negarlo. Siamo stati creati... Per essere così... Cre... Creati. Les enfants terribles. I bambini terribili. Era così che si chiamava il progetto. È cominciato nel 1970. Volevano creare artificialmente i migliori soldati possibili. La persona scelta come modello fu l'uomo conosciuto come il più grande soldato vivente al mondo. Big Boss. Ma nostro padre era già ferito in coma quando riuscirono a recuperarlo. Allora ci crearono usando le sue cellule. Una combinazione della clonazione analogica del ventesimo secolo e del metodo Super Baby. Metodo Super Baby. Fertilizzarono un ovulo con una cellula di nostro padre. Quindi lo fecero dividere in otto piccoli cloni che furono impiantati nell'utero di una donna. Nei mesi seguenti fecero intenzionalmente avvortire sei dei feti per incoraggiare lo sviluppo dei migliori. Io e te inizialmente avevamo altri sei gemelli. Otto gemelli? Sì. Gli altri sei nostri fratelli furono sacrificati per far nascere noi. Siamo stati complici di un omicidio ancora prima di venire al mondo. Così restammo tu ed io. Due ovuli fertilizzati con esattamente lo stesso DNA. Ma non avevano ancora finito. Mi usarono come cavia per creare un fenotipo che fosse la manifestazione di tutti i geni dominanti. Per creare te mi diedero tutti i geni recessivi. Tu mi hai rubato tutto ancora prima che io nascessi. Ma tu, tu e io non siamo i suoi unici figli. Cosa? I soldati genetici. Anch'essi sono una sua progenie. Sono legati geneticamente a lui. Sono diversi. Sono digitali. Sai, con il completamento del progetto Genome, i misteri dell'umanità erano ormai stati svelati. Grazie al DNA di nostro padre identificarono più di 60 geni soldato. Responsabili di tutto. Dal pensiero strategico al suo proverbiale istinto omicida. I geni soldato furono trapiantati mediante la terapia genetica nei membri del corpo speciale Next Generation. Che in questo modo divennero soldati genetici. Che strano, eh? I soldati che andavi uccidendo a destra e a manca erano nostri fratelli, con il nostro stesso patrimonio genetico. I soldati genetici. Esatto. Sono nostri fratelli. Creati artificialmente con l'alineamento di nucleotidi per ricreare i geni di nostro padre. Anch'essi sono il risultato di numerosi sacrifici. Sacrifici? Esperimenti su esseri umani. 1991. La guerra del golf. Ai soldati vennero iniettati segretamente quei geni. La sindrome della guerra del golfo, accusata da centinaia di migliaia di soldati al ritorno a casa, era un loro effetto collaterale. Non è vero. Tutti sanno che la sindrome della guerra del golfo era provocata dall'esposizione all'uranio esaurito dei proiettili anticaro. Questa era solo la copertura messa in giro dal pentagono. Prima dissero che si trattava di stress post-traumatico. Quindi delle armi chimiche o biologiche. Le unità per il rilevamento di gas velenosi e le iniezioni anti-Sarin. Era tutto un paravento per coprire gli esperimenti genetici. Ma allora, quelli che vengono chiamati i bambini della guerra del golfo, i figli di quei veterani sono... Sì, anche loro sono nostri fratelli e sorelle. Dunque hanno ottenuto il pieno successo dell'esperimento soldati genetici. Successo? Ma che dici, idiota? Sono un completo fallimento. Sono sull'orlo dell'estinzione. Cosa? Hai mai sentito parlare della teoria della diversità? La natura tende a favorire la diversità. Le specie che si sono istinte mostrano tutti i caratteri di simmetria. E proprio questi sono i problemi di cui soffrono i soldati genetici. Come me... E come ti. Eh? Tutti noi siamo a un passo dalla morte a livello genetico. Non sappiamo soltanto quando o che tipo di malattia ci colpirà. È per questo che ci servono le informazioni genetiche del vecchio. Vuoi il DNA di Big Boss per salvare la tua famiglia? Questo è davvero toccante. In natura i membri della stessa famiglia non si accoppiano tra loro, eppure collaborano per sopravvivere. Sai perché? Perché in questo modo aumenta la possibilità che i loro geni vengano trasmessi a una nuova generazione di individui. L'altruismo tra i consanguinei non è una risposta alla selezione naturale. Si chiama teoria egoistica del gene. Vuoi farmi credere che sono i tuoi geni a ordinarti di salvare i soldati genetici? Non puoi combattere i tuoi geni. È destino. Tutti gli esseri viventi nascono con il solo scopo di trasmettere i geni dei propri genitori. Per questo io voglio seguire quello che ordinano i miei geni. Ma io ho intenzione di andare oltre. Per spezzare la maledizione della mia stirpe. E per farlo, ti devo uccidere. Guarda dietro di te. Meryl è viva. Non ne sono sicuro. Qualche ora fa lo era. Continuava a chiamarti, sai? Meryl. Che stupido. Innamorarsi di un uomo che non ha nemmeno un nome. Io ho un nome. No, non abbiamo né passato né futuro. E anche se lo avessimo non sarebbe davvero nostro. Io e te siamo solo coppie di nostro padre. Big Boss! Lascia andare Meryl. Non appena avremo sistemato le nostre faccende. E il tempo è quasi finito. Stai parlando del Fox Die? No. Sembra che il Pentagono abbia saputo della distruzione del Metal Gear. E che abbia deciso di poter fare a meno anche di una rilevazione A di B. Ehi, se vuoi dettagli, perché non li chiedi al tuo caro amico, il colonnello Campbell? Colonnello, riesci a sentirmi? Sì, sto ascoltando. Che cosa sta cercando di fare il Pentagono, colonnello? Mi risponda! Il segretario della difesa ha assunto il controllo attivo di questa operazione. Sta arrivando sul posto con un AWACS. Perché? Per bombardare tutto. Che cosa? Non solo. Vari bombardieri B2 sono appena decollati dalla base aerea di Galena. Carichi di bombe nucleari tattiche perforanti B61-13. Ma che? Il Metal Gear è stato distrutto. Lo dica il segretario della difesa. Il segretario della difesa ha saputo che Naomi ha fatto il doppio gioco con noi. Ed è preoccupato per Fox Die. Dato che non c'è più pericolo di attacchi nucleari da parte del Metal Gear, ha intenzione di fare tutto il possibile per coprire la verità riguardo a tutto ciò che è veramente accaduto laggiù. Hai intenzione di sganciare una bomba nucleare per vaporizzare tutte le prove e i testimoni? Non preoccuparti, Snake. Fermerò l'attacco nucleare. Come? Magari sono solo un uomo di paglia, ma resto pur sempre il comandante ufficiale di questa missione. Se darò l'ordine di ritardare l'attacco, confonderò chi si trova lungo la catena del comando e dovrei come minimo farti guadagnare un po' di tempo. Avrai una possibilità di scappare. Ma colonnello, se ci prova... Va tutto bene, Snake. La verità è che la Foxhound era già oggetto di un'indagine segreta. Meryl è stata trasferita a questa base proprio prima dell'attacco dei terroristi perché doveva essere una leva per manipolarmi. Quei bastardi. Mi spiace. Mi hanno costretto a collaborare in cambio della sua vita. È meglio che tu esca da lì, Snake. Sicuro? Si metterà male per lei. Non preoccuparti. È il minimo che possa fare per te dopo tutte le balle che ti ho raccontato. Colonnello. Sto dando ordine di cancellare il bombardamento. Dopodiché non potremo più tornare... Ehi! Ma che sta facendo? Snake! Meiling! Che è successo al colonnello? Non ci credo. Che è successo? Snake! Il colonnello! Roy Campbell è stato rilevato dal comando. Sono il segretario della difesa, Jim Houseman. Mi ripassi il colonnello? No. È agli arresti per avere trasmesso informazioni segretissime. E verrà incriminato per alto tradimento. Ridicolo. Certo, è un uomo ridicolo. Credeva davvero di avere il comando di questa operazione. Bastardo. Non rimarrà un filo di prova. Sono certo che anche il presidente sarà d'accordo. Il presidente ha ordinato tutto questo? Il presidente è un uomo molto occupato. Io ho piena autorità qui. E come penso di spiegare al pubblico un attacco nucleare in Alaska? Non si preoccupi. Abbiamo elaborato una convincente storia di copertura. Ci limiteremo a dire che i terroristi hanno fatto esplodere un ordigno nucleare. Già, astuto. Ma ucciderete chiunque? Gli scienziati? I soldati genetici? Tutti? Donald, il direttore della DARP, è già morto. Allora non aveva intenzione di uccidere anche lui. Era mio amico. E del destino degli altri? Lei se ne frega altamente, vero? Beh, se lei mi darà il disco ottico, potrei considerare la possibilità di salvare tutti. Ma di che parla? I dati dell'esperimento del Metal Gear. Donald avrebbe dovuto riportarlo indietro. Io non ce l'ho. Vedo. Ma va bene, non c'è problema. Voi due siete uno scomodo ricordo degli anni settanta. Un piccolo, sgradevole segreto del nostro paese. Non possiamo permetterci di lasciarvi in vita. Bene. Le bombe verranno lanciate fra poco. E voi due avete parecchio da dirvi. Addio. Non c'è via di scampo per noi. Finiamo questa storia prima dell'attacco aereo. Tu mi hai portato via tutto. Solo la tua morte mi darà soddisfazione. Solo la tua morte mi ridarà ciò che è mio di diritto. La E sarà uno splendido sacrificio per la nostra battaglia finale. Lo vedi questo? Sarà il limite di tempo per il nostro scontro. Il modulo nucleare è programmato per esplodere nel momento stesso della sua morte. Se vincerai, potrai ancora sperare di salvarla. Potrai godere di un breve istante d'amore, prima di morire. Se attraverserai questa linea, cadrai. Da questa altezza persino tu moriresti. Perfetto, perfetto. Mamma mia me lo rompo Ma dai Ma dai a te ora ti faccio saltare cadonna sali cristo ci siamo ci siamo l'ultima 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 combo è finito? no devo volarlo di sotto Meryl Meryl mi sono reso la paura mi sono reso il dolore ho venduto la tua vita per salvare la mia sono una nullità non sono l'eroe che credevi io non sono niente Meryl mi dispiace perdonami Meryl non è più in grado di perdonare nessuno Otacon è andata Snake per colpa mia penso che compiangerti renda la cosa più sopportabile in questo modo puoi tenere il dolore a distanza di sicurezza che diavolo ne sai tu Meryl è morta ho fallito e allora resterai qui a morire insieme a lei Snake la gente muore ma la morte non è una sconfitta questo era quello che diceva Hemingway anch'io ho perso Wolf ma non è stata una sconfitta io e lei saremo insieme per sempre non abbiamo perso niente insieme per sempre Wolf è morta è vero ma il nostro amore non è morto con lei la vita è più di una partita dove si vince o si perde non crede viviamo Snake c'è un garage proprio dietro la prossima porta da lì possiamo raggiungere la superficie andiamo ho sbloccato tutte le serrature di sicurezza possiamo fuggire ti do la mia parola Otacon sei cambiato ho finito di guardare al passato la vita non è una perdita continua sai? ci siamo sembra che quelli facciano in fretta solo quando si tratta di distruggere qualcosa bene che distruggono pure ma non possono distruggere lo spirito umano ok andiamo Meryl spero che tu possa ancora vedermi forse riuscirò a dimostrarti di valere qualcosa dopo tutto avanti sbrigati Snake fuori fa freddo congelerai conciato come sei la mia tuta da infiltrazione faresti meglio a sbrigarti presto adesso sembri davvero tu che c'è pensavate che fosse finita eh ma no non è ancora finita una razione quanta vita abbiamo siamo full ok teniamocela qui non siamo armati dove cazzo è andato ti trovassi molto volentieri adesso tocca fare così bravo andiamo guardate che roba questi non hanno giubbocchi di proiettili di uomo cioè hanno un'armatura medievale non ha compito non è ancora finita ci avevo detto alza la testa che ho che ho che ho che ho e Grazie a tutti. Oh, cazzo. 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 Snake! Oh, cazzo. 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 Snake, mi spiace di averti nascosto molte cose. Oh, cazzo. 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 Cazzo è il mio. Sta a te decidere come usare il tempo che ti resta. Vivi, Snake? È tutto ciò che posso dirti. Ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico Non può essere cambiato È immutabile Ma la vita non è solo questo Finalmente l'ho capito Ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e DNA Perché volevo scoprire chi ero, da dove ero venuta Pensavo che, analizzando il mio DNA, avrei potuto scoprire le mie origini, il nome dei miei genitori E pensavo che, una volta che ci fossi riuscita, avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita Ma mi sbagliavo Non ho trovato niente Non ho imparato niente Proprio come i soldati genetici Puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi Ma non puoi renderli invincibili Ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona Il suo destino potenziale Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé E i tuoi geni ti dominino Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere Snake Che tu sia o meno nel programma Fox Dye non è importante La cosa importante è che tu abbia scelto la vita E allora vivi Lo pensi anche tu Snake Non ti preoccupare anch'io voglio scegliere la vita Fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere D'ora in poi però vivrò e basta I geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro attraverso i nostri figli La vita è un collegamento con il futuro Tutta la vita Amandoci l'un l'altro Imparando l'uno dall'altro È solo così che possiamo cambiare il mondo Finalmente l'ho capito Il vero significato della vita Grazie Snake Fino a oggi ho vissuto solo per me stesso La sopravvivenza è stata l'unica cosa di cui mi sono preoccupato Non pensarci Snake Tutti gli uomini sono così Mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo negli occhi la morte Non lo so Forse è scritto nei miei geni Che facciamo ora? Voglio godermi la vita Davvero? E che mi dici di te Otacon? Di me? Io Mi sento un uomo nuovo Che cosa? Che cosa hai intenzione di fare? Continuerai le tue ricerche? No Ho chiuso con la scienza Ora mi interessa di più la psicologia Mi sembra una buona idea Sai, non sono mai stato un granché nei rapporti con gli altri Avevo paura delle persone Avevo paura di vivere Pensavo di non riuscire a capire gli altri Erano così illogici Ma alla fine Ho capito come accettare una persona Non ho più paura Tu e io siamo più simili di quello che pensavo Sono stanco di essere uno spettatore della mia vita Ora sono pronto a viverla Sono pronto a reggermi sulle mie gambe Non mi voglio più nascondere Ti togli la mimetica? Eh? Oh, sì La puoi prendere tu Allora Qui dobbiamo anche dire addio alle donne che amavamo Vuoi che guidi io? No, grazie Preferisco farlo io Nessun problema Dove andiamo, Snake? Il mio vero nome è David Otacon Io sono Hal, Dave Oh, è vero Hal Hal e Dave Questa è buona Forse dovremo fare un giretto su Giove Tu cosa pensi di fare, Dave? Penso che sia tempo di dare una svolta alla mia vita Una nuova via Un nuovo scopo Riuscirai a trovarlo? Lo troverò So che lo troverò Grazie 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 collaborated Grazie 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 BUMBA Ragazzi BOMBA Ah, che finale è? Ma che finale è? Ditemi voi se non è uno dei finali più belli che abbiate mai visto in un videogioco. Porca miseria. Ho preso anche nome in codice Leopardo. Non male, non male. Ma salviamolo al coso completato. Comunque, dato che questo episodio sarà venuto infinitamente lungo, perché la cazza in finale veramente non ha fine. Non ha fine, l'avete visto anche voi, è assurdo. Adesso dovremmo ritrovarci nel menu iniziale, sì. E ne approfitto soprattutto per dirvi che farò un brevissimo episodio speciale dove parleremo di varie cose. Non ho parlato fino ad ora durante i crediti finali, perché volevo lasciarvi ascoltare la magnifica canzone The Best Is Yet To Come, che è, diciamo, Lost di Metal Gear Solid 1. E per chi si chiedesse che lingua è, è gaelico. Cioè gallese, antico. Molto antico. E niente, se avete ascoltato bene le parole di Ocelot, avete capito che cosa sta per succedere. Lei la terrò sotto stretta sorveglianza. Bah, ne parliamo nell'episodio speciale, mi sa che è meglio. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.